Il secondo defibrillatore pubblico è stato posizionato in via Fardella, il primo è stato posizionato un mesetto fa in centro storico e adesso questo è stato posizionato in via Fardella donato dai titolari di una nota concessionaria di auto di Trapani. Il defibrillatore è in via Fardella con la speranza che questo gesto possa contagiare anche altre persone e quindi altre donazioni e altri defibrillatori posizionati nelle vie di Trapani. Nei prossimi giorni sarà fatto un opposito corso BLSD con una certificazione rilasciata per ogni persona, queste persone sono state individuate sulla base dei luoghi più vicini, delle attività commerciali vicine al defibrillatore e il defibrillatore sarà accessibile a tutti H24. Quindi qualsiasi persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore può tranquillamente, speriamo naturalmente mai, andare lì, prendere il defibrillatore e accenderlo e poi il defibrillatore seguirà passo passo tutte le indicazioni necessarie per l'intervento.